Un saluto a tutti gli amici pescatori. Dal 26 al 28 di novembre si terrà la fiera Pescare Show 2021, la fiera della ripertenza, quest'anno arricchita da una collaborazione insieme a Fiops e Fipsas. Sarà un momento importante dopo la lunga stagione pandemica che abbiamo attraversato e dalla quale stiamo fortunatamente gradualmente uscendo per ritrovarsi, per ricreare una connessione, negozi, aziende, pescatori insieme all'insegna del ritrovarsi intorno alla nostra grande passione, la pesca sportiva. Per cui appuntamento alla fiera dal 26 al 28 di novembre. Ci vediamo in fiera!